Ciao, buonasera, sono Daniele. Quanti anni hai? 32. Da dove vieni? Da Nibbiola. Cosa fai nella vita? Operaio, sono un elettricista. Ti piace quello che fai? Sì. Cosa ti piacerebbe fare se dovesse cambiare lavoro? Se dovesse cambiare lavoro, qualcosa sullo sport. Per esempio? Anche tecnologista. Ti piace seguire me nello sport? Sì, sì, sì. Che squadra tifo? Tifo Milan. Vedo che sei sposato da qualsiasi? Sì, no, pochi mesi, sono sposato il 7 maggio. 7 maggio, a voi. Come si chiama tua moglie? Ilaria. Vuoi dirle qualcosa? Perché la amo. Qualcosa di più? Sare quello che penso di lei. Cosa ti piace fare a parte dei lavori? Praticavo sport, adesso un po' meno. Ti piace musica, ti piace cinema? Cinema, sì. Genere? Genere e avventura. Attore preferito? Attore preferito, Bruce Willis. Vediamo, dammi tre rifetti e tre pregi. Miei? O sennò te li faccio vedere voi? Permaloso. Permaloso, permaloso, permaloso. Ok. Pregi, simpatico. Detto dagli altri? Sì. Non è tutto questo? No, no, detto dagli altri. Ok. Poi? Detto da mia moglie è tenero. E poi non saprei. Ok. Sei una persona estraversa? Ti piace comunicare? Ma, mica troppo. Sono timido. Ok. Allora, vediamo. Cosa pensi che puoi portare alla TV, alla web TV di Torno? Ma non lo so, magari simpatia. Qualcosa di nuovo. Cosa ti piacerebbe fare all'interno del vostro? Eh, però non so in cosa... Non lo so, ti piacerebbe presentare? No, a me piacerebbe parlare di sport. Ti piacerebbe parlare di sport, perfetto. Di perché ti dovrebbero votare e ricordo il numero? Perché sono simpatico, perché mi hanno detto che ho una bella faccia. E poi? Perché altri ti dovrebbero votare e ricordo il tuo numero? Perché mi piace, io sono il numero 12, e perché mi piacerebbe entrare dentro... Fai saluto ai nostri amici di Torno? Un saluto agli amici di Torno. Ciao.